Dynastar M-Pro 99 è uno sci da freeride progressivo e leggero per discese tra gli alberi o discese a tutta velocità in pendi immacolati con un raggio di 22 metri e 99 mm al centro nella lunghezza di 186 cm. La tecnologia Hybrid Core combina legno di pioppo, leggero e performante, con il poliuretano che aggiunge elasticità e smorzamento ideale. Un rinforzo in titana garantisce alti livelli di prestazione freeride in tutte le condizioni. Gli sci hanno un profilo tip and tail rocker. Dynastar M-Pro 186 99 sotto il piede è uno sci sicuramente che è adatto a tutte le condizioni di neve, è sicuramente adatto a uno sciatore che ama gli ampi spazi, andare veloce, fare dei curvoni a raggio lungo. Lo sci è comunque abbastanza pesante ma è super divertente e come detto è molto facile da guidare, la presa di spigolo è molto veloce e quindi tutto sommato è un buono sci. Bellissimo, mi sono proprio innamorata. Per una donna forse questa lunghezza è un po' difficile ma per fare dei curvoni è veramente veramente bello. In un buschetto per me sarebbe un pochino troppo lungo, forse per una ragazza un pochino più corto è veramente uno sci tosto, bisogna essere allenati. Lo definirei lo sci adatto allo sci alpinista moderno, al quale la persona che cerca di spingere in discesa richiede sostanza dallo sci è adatto anche per qualche risalita ma la sua pecca è un po' il peso, va a perdere un po' perché diventa un po' pesante. Il rocker in punta è bello progressivo e la coda sostiene bene. È uno sci a livelli intermedi e avanzati, bello rigido, bello presente però che ha una buona galleggiabilità, adatto soprattutto a curvoni ampi, neve fresca, meno facile dove diventa un po' più ripida la pista e sul duro. Predilige molto la velocità, i campi aperti e curve molto molto ampie. È sempre lì con te, riesce ad accompagnarti bene ma gli devi stare addosso, non devi perderlo per un attimo perché diversamente diventa uno sci veramente impegnativo. Sul raggio medio riesci a condurlo bene, sullo stretto bisogna veramente impegnarsi. È uno sci secondo me molto molto bello veramente ma non è uno sci per tutti. Quindi se è passato uno sci così abbinategli una scarpa decisamente adeguata al livello dello sci. Onestamente sembravano più di 105 e una stabilità impressionante nel tritato. L'adaptive rocker l'ho trovato super azzeccato. Permette di galleggiare la grande in fresca, ti tiene fuori dal tritato ma non toglie la stabilità. È uno scione bello strutturato quindi sicuramente per sciatori con una buona tecnica e potenti fisicamente. Non è portatissimo nelle curve strette ma pendì ampi, velocità e dei bei curboni. Un bello scione. Uno sci super performante in fresca anche ad alte velocità. Ottimo galleggiamento e ottima stabilità. Sia in neve fresca ma anche in pista. L'unica nota che vorrei aggiungere è che forse servirebbe uno sci un po' più corto per poterlo apprezzare al meglio dal pubblico femminile. Unico di 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 unico